we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi intanto ancora tanti tanti auguri di buona pasqua e di buona pasquetta a voi e a tutte le vostre famiglie ragazzi piano piano ci stiamo avvicinando e stiamo capendo quello che sarà l'evento finalmente che chiuderà molto probabilmente la season numero 8 trasportandoci verso la 9 vi ricordo che mancano 18 giorni al termine è volata anche questa volta nel video di oggi ragazzi vi parlerò delle rune news ovviamente un po di aggiornamenti su quello che è successo su quello che succederà ragazzi io ve lo dico spoiler violento ho un video assurdo di quello che potrebbe di quello che accadrà di quello che accadrà ve lo faccio no ve lo spoilerò subito ve lo faccio vedere il vulcano raga il vulcano si è attivato comincia ad uscire qualcosa ne parliamo e ne approfondiamo e attenzione perché come vi avevo già anticipato i leaks sull'evento voglio comunque ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone nello shop grazie di cuore per sostenere il canale ragazzi mi raccomando taggatemi su instagram che vi riposto nelle storie iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live e ma prima raga la domandina raga ve la devo fare la domandina è una domanda che viene da sé non c'è neanche bisogno forse l'avete già capita qual è la tua skin pasquale preferita incubanni hooper il coniglio incursore il coniglio mastino oppure pastel qual è la tua preferita ragazzi la mia è in cubanni mi piace veramente tantissimo io adoro in cubanni con il set con la falce a carota è qualcosa di devastante e molto aggressive come dice un certo signore che conoscete beh ragazzi mi raccomando i vostri commenti qui sotto non dimenticatevi di lasciarlo ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito sbadabam a vedere che diamine sta accadendo su fortnite questa ragazzi che vedete alle mie spalle è la schermata l'immagine la panoramica della seconda runa da qualche ora presente nell'oggetto misterioso che è ovviamente a sponde del saccheggio voglio però farvi vedere iniziamo a vedere una cosa guardate questo video per chi si fosse perso il momento esatto della dell'arrivo della prima runa all'oggetto misterioso eccolo qua ragazzi molto rapidamente sono 30 secondi come vedete la runa arriva fino alla sua posizione con sopra un po di gente che sta violentamente picconando vi ricordo picconare la runa serve per aiutarne il movimento ed eccola ragazzi che tra pochi secondi succederà qualche cosa sta per accadere sta per accadere si apre il portale la runa prepotentemente si infila nella sua allocazione ed ecco che si attiva il primo spicchio dove c'è questa cosa non sappiamo che cos'è ragazzi ma è attiva quindi il blu nella il cerchio blu il portale chiamatelo un po come volete si è attivato visto che è apparso questo video per chi ha guardato la mia pagina instagram lo avrà già visto ve lo faccio vedere ragazzi sono pochissimi secondi di inquadratura dell'attivazione del portale con il drone libero da dentro all'oggetto molto carina come cosa molto curiosa come vedete al momento non si capisce ancora assolutamente nulla ma comunque qualcosa ovviamente accadrà di certo al termine dell'attivazione di tutte e cinque le tutti e cinque i portali la runa come sappiamo ragazzi è apparsa la prima volta là dove c'è il camion in bilico tra a prodo avventurato e il bioma deserto insomma la traken è oasi e si è spostata piano piano facendo il percorso molto simile a quello del cubo ve l'avevo già fatto vedere in un paio di video fa si è spostata nel bioma quello verde è passata anche dal bioma ghiacciato ed è arrivata anche a pinnacoli fino poi ovviamente a raggiungere la sua sede finale inserendosi e quindi attivando noi non sappiamo ragazzi al momento che cosa succederà o forse lo sappiamo voglio farvi vedere una cosa voglio farvi vedere una cosa guardate un po ragazzi sembrerebbe che fra poco non appena le rune non appena ci saranno altre rune guardate guardate io non so dove sia stato preso questo video ma è sicuramente originale e c'è un collegamento diretto delle rune vedete che c'è un fascio luminoso guardate sopra là in alto guardate 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 questo è secondo me un glitch spoiler preso in modalità replay per puro caso ragazzi ve lo faccio rivedere se non l'avete visto bene perché è molto molto interessante sicuramente sappiamo che le rune sono collegate al vulcano e non è un caso ragazzi appunto anzi vi faccio vedere come vedete guardate che roba guardate e arrivano fino fino si collegano e poi passano fino al vulcano ragazzi come vedete è tutto vero non è assolutamente un un effetto scenico fatto da qualcuno non sappiamo però ovviamente quando e come succederà questa cosa vi stavo dicendo ragazzi che ovviamente è tutto collegato al vulcano perché subito dopo l'inserimento della runa nella prima porzione dell'oggetto sponde del saccheggio il vulcano ha cominciato lentamente la sua attivazione del fumo esce dalla bocca del vulcano è logico pensare che più le rune attiveranno i portali e probabilmente più il fumo sarà intenso portando quasi certamente ad una possibile eruzione vorrebbe magari dire l'arrivo di un nuovo bioma quello della lava oppure succederà qualcosa le rune sono collegate al vulcano questo è secondo me molto molto probabile subentrerà sicuramente il prigioniero e la skin rovina ma credo che se ne parlerà molto meglio alla fine di questa season e quasi certamente sarà parte integrante della storyline della season numero 9 tanta roba ragazzi ma andiamo avanti ed eccole qua giusto per vostra informazione le tre rune che ancora non abbiamo visto come vedete conosciamo in realtà qua c'è stato un errore in realtà questa è già stata vista quella dall'altra parte ancora no sono ancora in totale 5 come i portali ovviamente della parte di sponde del saccheggio vi voglio ricordare anche che molto probabilmente secondo me oggi sicuro come loro come al solito la sfiga che c'ho io mancano due skin all'appello della patch 8.4 di settimana scorsa manca il coniglio ninja che è proprio questo e manca anche il coniglio robot che è una skin come vi avevo già mostrato che ha la personalizzazione dello stile un po' come hooper con la testa di uovo di cioccolato oppure la maschera da ladro invece questo coniglio che si chiama non me lo ricordo ma in realtà ve l'avevo già detto ha la possibilità di essere modificato con uno stile allegro oppure uno stile meno allegro tanto quanto la skin quanto il suo backpack chiudo molto molto rapidamente con questa immagine che introduce due modifiche anzi delle aggiunte nella patch 8.5 ragazzi quella che dovrebbe arrivare tra pochi giorni sappiamo che sistemeranno questi sono fonti che arrivano da reddit scritte direttamente dagli sviluppatori di epigames sistemeranno dei problemi con l'audio probabilmente quello che ancora c'è sul quad sapete che ogni tanto si sente il rumore del quad ma in realtà lo vediamo ma è fermo ed è un bug dell'audio sistemeranno quello modificheranno e miglioreranno il posizionamento delle trappole ancora non sappiamo bene come e verrà migliorata anche la possibilità di raccogliere da terra le armi appena saprò di più lo saprete anche voi ma per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando codice creator xyuderone iscrivetevi al canale e adesso tutti a grigliare ciao